L'argomento principale ancora una volta purtroppo è quello relativo al caos sull'A14 e non solo, anche sulla statale per il dipietro, la limitazione al traffico e mezzi pesanti che si riversano appunto sulla statale adriatica tornando un po' a una situazione che è quella di tanti anni fa nei comuni della costa teramana che sono interessati da questo transito. Oggi una serie di vertici prima a Silvi e poi in prefettura a Teramo, tutto seguito dal nostro collega Luca Pompei che appunto sul posto in prefettura a Teramo è anche un ospite importante. Allora dici tutto, raccontaci questa mattinata. Luca poi naturalmente dai la parola al tuo ospite. Sì grazie Marina, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Allora intanto ringraziamo vivamente il prefetto di Teramo, sua eccellenza dottoressa Gabriella Patrizzi che è qui insieme a noi anche per fare il punto di quella che è stata la riunione di questa mattina comuni preoccupati, territori interi preoccupati per la provincia di Teramo rispetto a queste emergenze. Questa riunione di oggi è una riunione del Comitato Operativo Viabilità proprio per concordare le misure da adottare in questa situazione di criticità per la viabilità sulla A14 e sulla Stadale 16. Quindi sono state concordate delle misure tra cui anche l'attivazione del Piano Neve in caso di criticità. Questa riunione tra l'altro è stata fatta anche su indicazione della Polizia Stradale che ha concordato anche una sinergia operativa con i sindaci, con la Polizia Municipale e con la Polizia Provinciale. Ecco, tra le varie ipotesi c'è anche l'uscita obbligata per i tir da far slittare fino a Mosciano? Anche quella potrebbe essere un'idea? Aspetta un attimo, questa è una possibilità nel senso che si vedrà un attimo quali sono le condizioni del traffico e comunque queste sono misure da adottare proprio monitorando la situazione da parte appunto delle forze che sono addette come la Polizia Stradale, come le varie polizie municipali e poi vigileremo e monitoreremo sulla situazione in modo da concordare le misure che poi dovessero rivelarsi necessarie. C'è comunque massima attenzione da parte della Prefettura rispetto a questa emergenza? Beh, c'è la massima attenzione anche perché presso la Prefettura c'è, come ho detto già prima, il Comitato Operativo per la Viabilità per cui si tratta di adottare misure e soprattutto una sinergia operativa con tutti i soggetti interessati. Questo è molto importante nel senso che ci deve essere circolarità di informazioni, nel senso che le iniziative devono essere vicendevolmente comunicate in modo che si possa agire operativamente in modo concorde e congiunto. Grazie signor Prefetto, la lasciamo ai suoi impegni e la ringraziamo per averci accolto qui in diretta al nostro Tg8. Marina, solo un paio di informazioni prima di ridarti la linea. Noi abbiamo sentito i sindaci del territorio, abbiamo sentito un arrabbiatissimo presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura e anche il presidente regionale dell'Anci, Gian Guido D'Alberto. Abbiamo già detto in questa fase alcune ipotesi per fronteggiare l'emergenza, ma si attendono notizie importanti all'inizio della prossima settimana, tra il 12 e il 13 gennaio, quando da Roma dovrebbero aggiungere notizie riguardanti il dissequestro dei viadotti. Questa sera in un ampio speciale vi daremo conto di quanto i sindaci sono preoccupati. Tra le altre cose il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, ha anche annunciato l'attivazione del COC, perché sul tratto della Statale 16 nel territorio comunale di Silvi la situazione è davvero insostenibile. Luca, proprio visto che tu sei lì e ci sei arrivato da Chieti Scalo, come tu stesso hai visto con i tuoi occhi, ci sono file, ci sono l'ondizia dell'agenzia che parlano di file importanti ancora. Sì, noi abbiamo fatto un grande tratto della Statale 16, dove praticamente da Città Sant'Angelo fino a Pinetto è un continuo via vai di mezzi pesanti. Abbiamo ripreso l'autostrada a Pinetto e lì, diciamo, in queste ore la situazione è leggermente migliore. Però il problema grande si crea la sera quando chiudono le aziende e quando il flusso si fa ancora più importante. Sta di fatto e ha ragione il Sindaco di Silvi, Andrea Scordella, che sulla Statale 16, sia in direzione nord che in direzione sud, è un continuo via vai di mezzi pesanti. Ci sono dati inquietanti da parte dell'Arta per quel che riguarda l'inquinamento. Il Sindaco Scordella ha parlato perfino di tombini rotti sulla Statale. Quindi, come a dire, si dovranno affrontare anche delle spese per rimettere a posto l'asse stradale. Insomma, un'emergenza grande. La pazienza sta per finire, ci ha detto sia il Presidente della provincia di Teramo di Bonaventura che il Sindaco di Pinetto, Robert Verrocchio. Quindi saranno dirimenti le giornate della prossima settimana. Ti restituisco la linea, Marina. Grazie, grazie a Luca Pompei, il nostro inviato sul posto. Vi rimando allo speciale di questa sera, proprio su questo argomento. Ma come sempre noi teniamo gli occhi aperti su tutta la vicenda perché davvero sta penalizzando gran parte della regione per quanto poi le cronache nazionali, diciamo, se ne occupino forse un po' troppo poco.